eccoci qua con un super paccone direttamente perché si sta sfondando direttamente dalla germania orario di apertura di 16 21 possiamo aprire che si stiamo in orario non ce l'ha data anche ma vedi che intelligenza perché si mangia dai 13 14 e 16 si mangia si riposa e poi si può aprire i pacchi giusto è giusto anche le spedizioni si fanno da colori tutti i giorni a trani in descrizione trovate tutti i video per contattarci abbiamo i vari siti su cui ci appoggiamo card trader e manga comics market e dopo iscrivetevi anche i nostri social facebook instagram partiamo con i giochi magic zendica la rinascita di zendica aspettando la nuova espansione mystery booster boom figo qua esce di tutto ci ho messo anche le offerte sui giochi di carte andremo a vedere sui nostri social ci sono un bel po di offerte sui giochi di carte anche pochi con questa volta con la nuova espansione voltaggio sfolgorante e anche il set allenatore grande ritorno di oro massimo successore della conami un sacco di bombe o per non farci mancare niente a magic anche la collector booster di zendica un sacco di soldi e quasi qua escono pure le fecce marco crescono le fecce aveva aperto qualcuno sbaglio è aperto con noi qualcuno di che grande si apre king of the monster è vero una scatola sembrava sembrava un pacco di colipso alla porta esatto e questo è il famoso no no però era scritto ti ricordi e l'ho detto io bello però è mizzi casi wow godzilla godzilla un po po un super poco questo volo Вотtomato a nevite un bellissimo regalo movie moment ma vada che don contro i raccoglitori i raccoglitori questi sono quelli da 12 tasche bellissima e qui sono quelli da nuove tasche e tutto qua c'entrano 360 e qui 480 se la matematica non è una opinione se ne metti due per entrano nel doc back to the future la deloria bellissima del fulmine questo è geniale ci hanno fatto pure il fulmine frozen e noi non sappiamo quando fulmine colpirà e invece lo sappiamo vabbè intanto intanto fai notare meglio zilla massa quanto pesa il cattivissimo batman degli ostantani ariel con tanto di piedi il ritorno del mint flyer e questo che c'è da sei o demo slayer come è della serie in giro ten giro si tangiro un altro tangiro è un videogioco e poi spider man per i più piccini questo invece della suora più bella la suora perfetto no 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 guardavo è una stato della sega si dico della sega non me l'aspettavo fa anche l'estato oh naruto vedi il poppy naruto alla signora sarebbe felice vittoria che figo the warriors wow bellissimo film dei miei anni halo e l'altro personaggio l'altro protagonista coccis conosci film quello dei ragazzi di strada dell'america conosco no conosco il fight club eh no no è esatto ancora nei robbie nei robbie ma è al contrario dai che geni che geni che si è questo è in video si dovete vedere che non sia stato di nuovo dovete mettere lei al contrario non lo so quando la chiudi dico cura giri il cattivo di che cazzo no no geniale enti vivo in person c'è genio geniale bellissimo e tv ha fallito vero c'è chiusa come radio come trasmissione televisiva purtroppo infatti è una delle cose che facciamo così più figlia il ritorno del guerriero varie bustine matte di tutte le misure sia per gli uchi sia per me che sia le fit laterali normali come si mettono quelle centrale le devi incorporare siamo sicuri che buttiamo qualcosa pensavo di più arriverà qualcos'altro sicuramente perché poi la germania mandato perché mi ricordo che deve arrivare qualcos'altro però seguiteci sui nostri social veniteci a trovare perché le sorprese non finiscono qua devo chiudere ci vediamo al prossimo video grazie mille ciao ciao